no ci sto concentrato ma che cazzo avete fatto mamma per quanto poco niente a mezzo ha taggato la palla simone hai fatto un gol allucinante hai fatto almeno for the king torna 138 km orari guarda te tu hai rimasto sta palla bravo e baffa spingela 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 piano con l'amore con l'amore con l'amore con l'amore perché simone ogni volta che si agita la tira dall'altra parte guarda simone piano piano io non ti sto toccando piano simone oh mamma che merda come va la torta ma un tagliela oddio che stasso chi è che è che è che è che è non lo so pure fatto oddio non l'ha fatto guarda 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 ma secondo me non è morto ma è un clone fra tipo scherzetto era una mia coppia io ne so che sono italiani ah Claudio Destino non è Destino Claudio Destino clandestino cioè ma io mentre stavo giocando stai guardando i miei nomi clandestino vai ma che è sta porso la gaccia c'è il clandestino che mi trasporta l'anno occhio raga mi ha fregato da clandestino ancora lui è l'unico che c'è la macchina russa perché è rumeno vedi è clandestino non è rumeno sono più clandestini sono più clandestini se non mi piace Flavio queste cose razziste io turbo al clandestino sto tornando in porta non ci sono lo sono messo clandestino clandestino vai 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 clandestino para ci ha provato Margomone l'ha lasciato a casa guarda come la Croazia scusa niente scusa vai insisti eh non ci sono in luogo tua tiz tua tiz tua tiz ma è passato 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 ti è bravo ma che non è passato guarda questo vi fa perché se lui la tirava era peggio guarda poi guarda io mi sono caricato il portiere sotto sono arrivato fino a giù sono arrivato fino a giù a prendere il portiere bravo che puttano vuol dire tutto hai messo dimmi che non la pare dimmi che non la pare non la pare hai salvato la fine hai salvato la fine la già stava ancora presso a quello pensavo che aveva lavorato oh micchia che azione ragazzi sì 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 beh più fatti arriva chi chi ne vede l'ololol vai flan Ma io non ho tirato ancora, l'ho messo davanti la palla e vedo che qualcuno mi veniva addosso. Che parata! Si stavano perdendo la palla. Vai, vai, vai Simo, vai Simo! Ho fatto da solo. No, l'ho fatto da solo, l'ho fatto da solo. Così, poi è tutta calcolata. Così ho soppiato e andato da dentro. Il potere dà la forza, questo. Star Wars 9. Da dove è arrivato Flavio? Flavio? Ah, perché Simone te l'hai disconnesso. Si, come sa. No, penso in me. Vai basta, riprendiamo. Si, Simone. Ah, vedi, pure nel video. Simone. Ah, ma Simone dov'è? Simone, pure nel video. Ah, ma Simone dov'è? Simone, pure nel video, Simone. L'avevo fatto io. L'avevo fatto io. L'avevo fatto. Ci posso credere per un secondo, per un secondo. Un secondo, ma non la lontana. Guarda, per un secondo la lontana, guarda. Non penso che sarebbe mai entrata con quel secondo. Non è bene. Merda, tanto ti esci. Tira. Tira. Bravo. Insisti, insisti, insisti. Insisti, ci sta. Eccolo. Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi. Però quello dell'imper è l'imparabile. No, non lo vedi. Nel video, non lo vedi. Un video, non lo vedi. Un video sull'alto vedi. Un video sull'alto vedi? Un video sulle riempie. Un video sulle sozze. Tiè, per regà. Non lo so, eh. Io non riesco che mi tenete ingabbiato in quella porta. Guarda, guarda. Oh! Guarda. Senza turbo, ho finito. Mi sono rotolato senza turbo. Tiè, faccio pure spaventare i giocatori. io non capisco ma vaffa bravo vai la torta vai la rileva volta come? oh 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 non so come fare ma guarda io guarda bene l'imp guarda eh oh 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 non so come fare le tesi aiuto vado a tirare insieme bravo bravo che cazzo tiriamo fa vado a tirare insieme bravo 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 Grazie.